Per i spettatori oggi 6 dicembre 2012 ci troviamo in Via Tellane, in quello che i vari cittadini hanno segnalato come la curva della morte e vogliamo dimostrarvi l'asfalto a cui stamattina era bagnato, c'è dall'altra parte della strada una pozzanghera che crea un'acqua planning per chi proviene da Cesa e c'è un'auto, l'incidente è avvenuto proprio questa mattina, che è finito praticamente in campagna. Come si può vedere ha distrutto una macchina, bisognerà adesso accertare di chi è la colpa, se della strada o della velocità perché come si vede non ci sono segni di frenata, sul lato destro per chi proviene da Versa non esiste nessun segnale come si può vedere di curva pericolosa, ma la curva è estremamente pericolosa perché questo non è il primo incidente che avviene. Alla prossima!